Arresti, tangenti, scandali, appalti truccati, soprattutto nel capito della sicurezza in ATM. Noi vogliamo giustizia ma soprattutto trasparenza, non vogliamo fare i processi ma vogliamo sapere come stanno le cose. Chiediamo al sindaco Sala dopo quattro mesi di convocare il consiglio comunale in presenza fisica, di essere presente e di dire al consiglio ai milanesi cosa è successo in ATM in questi anni.